Mi ha colpito molto quello che ha detto il professore. Tutti cerchiamo la mamma. Noi qui abbiamo fatto una serata parlando soltanto di cose che non nulla hanno a capire con il problema che riguarda il cittadino, cioè con la malattia. Il mio capriccio, se qualcuno lo vuole definire capriccio, non sono capriccioso, mi creda. Il mio capriccio di dire riapriamo una struttura grossa come il Forlanini è perché il cittadino si vuole sentire protetto, non vuole dire che apro due posti qua, tre posti là e così via. Non li aprirete, non ha importanza, ma dategli una speranza. Cioè, questi cittadini devono essere rassicurati, se noi non li rassicuriamo, parliamo, non arrivano le mascherine, questo è un gramma. Chi vi sta a sentire, chi ci sta a sentire dice, ma che fanno questi? Io, il Foranino, l'ho difeso. L'ho difeso sempre a prescindere dal Covid-19. Lo diciamo, lo diciamo, perché dopo faremo anche vedere l'immagine, è uno degli, storicamente è nato nel 1934, porta il nome di uno dei più grandi scienziati italiani, moderni. Morello e Foranini, tutti e due, che ha scoperto il bacillo poi. Certo, lavorava con Koch, con il premio Nobel. Certo, l'unica cosa che voglio dire, ricordare, in quegli anni, quando è nato il Foranini, morivano 25-27 mila persone all'anno di tubercolosi. E a nessun matto gli veniva in mente di prendere il paziente con la tubercolosi e portarlo al policlinico Umberto I. Lo mettevano tutti dentro il Foranini. Se lei vuole vincere una battaglia, non deve metterli di qua e di là, perché succede che se lei viene vinto in un altro ospedale, due persone, quelli infettano pure l'ospedale. Quindi, scusi se dico una cosa, non si può ristrutturare. Oggi al telegiornale ho sentito che a Milano 150 operai in una settimana hanno ristrutturato un reparto e ci manca una settimana. Anche a Napoli ho visto...